50 sono 3 diamo il via, te ne voto esci tanto lo dice sempre vai dall'altra parte magic, magician porca ok look ma mago questo gioco lo fanno dappertutto è un gioco classico c'è in questo show così importante un qualcosa di più ma scusa ti ho detto questo dove l'hai preso questo qui mi ha dato anche il cappello col coniglio siamo a posto si sarà mica offeso oh forse sta arrivando un qualcosa di più importante ecco adesso porto la cassa vediamo cosa c'è dentro sì vediamo anche il coniglietto guarda guarda controlla cosa fa ma anche io devo andare a vedere un'altra cosa ma che bello questo coniglio scusi mago dove metti la mano ho fatto il contrario questo sì che originale thank you thank you thank you thank you mago mago chi la porta via questa scusi chi la porta via questa come on come on il coniglio mago Alessandro Politi vi seguo questo mago è fantastico allora porta un caos su questo palco succede di tutto caro Pippo salutiamo anche l'ispettore di studio Pippo grande storico sul palco dell'Ariston